Willi Osushi, possiamo dire che è stata la miglior partita stagionale che avete fatto? La partita di oggi era una partita a sé, perché era una partita che tanti di noi, anche dalla società, ci teneva personalmente. E poi, giustamente, abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia soprattutto di crescere nel lavoro che stiamo facendo e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ascolta, primo tempo di assoluta qualità, due gol, un rischio, ripresa in controllo, perché a parte un'occasione alla fine, la Claudiense non ha mai impensiato Ronco. Beh, ti dico, abbiamo avuto la possibilità di avere una settimana di tempo per preparare il lavoro che abbiamo fatto e innanzitutto devo completarmi con i giovani, devo fargli veramente complimenti, tutti i giovani, sia quelli che hanno giocato e quelli che erano in panchina. Per noi è stato un ottimo test, quello di oggi, e dobbiamo e vogliamo continuare a crescere. Non ti piace parlare delle tue prestazioni, però oggi è migliore in campo, te lo diciamo noi. Non è quello che mi punto, la cosa fondamentale per noi adesso sono i tre punti, vinciamo e portiamo a casa i punti. Però, come è giusto che sia, i giovani oggi veramente hanno fatto vedere il loro valore. E questo per noi, i giovani, è un punto in più. Per noi è giusto fare i complimenti, è giusto dargli quella pacca dietro per dare il coraggio di continuare a fare quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie. Grazie.